Ciao ragazzi, con il video, oggi parliamo di film, oggi voglio parlare sull'egra pizza, sull'egrazione. Allora, voglio parlare da quel film, come cazzo è fatto quel film. Allora, io voglio sapere, i creatori, i creatori, allora quel film, come cazzo, come cazzo che vengono lì e gli fanno un altro solo. Allora, sono, sono, perivitano, io lo vedi tutti, il primo, il secondo, il quinto, ehm, quindi, e non uscigo, sono, sono, perivitano. Allora, parla gente di, sono, sono, arrivi al camera sull'egrazione. Cosa devo dire, lo film? A me non è piaciuto, a me. Tecchiraggio è, non è sette, su quei film, sette. Non capiscono cazzo che quella due ore era solo, era. Tanto io, quando uscirà l'egrazione, non vinceranno, perché ogni volta che dicono, eh, su film, che dicono una cazzata, che gioia. Allora, dopo gli vanno un link, qua sotto, che faccio dire, eh, cosa, cosa, a Ghetto, una ragazza. Possiamo vincere, a Ghetto. Quando vi vanno un film, mi sembrava quella zona, quell'altro. Sono, ehm, quindi, uguale. Uguali. Uguali. Uguali, parco Dio. Uguali. Cioè, secondo i, uguali. Uguali, sono, 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 legacy, così. Uguali. Il primo la show legge, il secondo la show legge. Ma io gli esperavo, è un cazzo di film. Perché non fate ogni volta? Ca, non incide, ca, non incide. Non ce la fate. Se ne, se ne una tipa. Una tipa. Se qualcuno, se qualcuno vede una logo qua, forco Dio. Allia. Forco Dio. Qua. Una logo qua. 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 Evo questo? Forco Dio. E da. Io salivo qua a farlo. Guarda. Guarda, guarda. 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 Forco Dio. Guarda. 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 Salivo. Salivo fra me lo. Per forza. E salivo. Allora tengo mi chiamata a me proprio, a me, mi chiamate, è fatto, guarda, c'è sangue, no, mi chiamano a me, io vinco sette, se vuoi mi chiamate, è un gioco, voglio fare un gioco e, lo vinco sette io, io, io sono un'altra persona, io. Se vuoi mi chiamate, voi, se fate la persona, mi chiamate, lo faccio io il gioco, se mi chiamate, se vuoi dire cinque av e, con la bocca, a, con la bocca e, con la bocca, se mi chiamate, se mi chiamate, se vuoi dire vino čia, è quello che è duritario. quel film è un nerd, no? quel film è un nerd voglio sapere, no? ma che cazzo fare che cazzo fare già per film che cazzo quel film è è un nerd è un nerd cioè io, io dico, no? se vuoi fare un film è lo odello che dice fino a me è a lui odore con Dio, fino a me oh mio Dio invece no invece no, c'è il son che è rotto il cazzo che è rotto il cazzo che vuole andare alla gente no, invece c'è il son che è rotto il cazzo è quello il problema che vuole rotto il cazzo la gente cioè ma io dico, no? porco Dio cioè ma che c'è il gigotto? cioè che io fai ero del gatto non vincere il gatto del gatto non vincere il 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 gatto ti lascio anche in descrizione se volete vererlo o no, o si ti lascio in descrizione se volete vererlo se no mi chiedi in privato non lo voglio vedere ok? grazie grazie che vi chiedi in descrizione non vincerelo cioè venga non vincerelo